Al centro convegni Sant'Agostino in via Guelfa torna la più antica manifestazione italiana interamente dedicata all'antiquariato nelle sue produzioni migliori e prestigiose. Aprirà infatti al pubblico sabato 24 agosto l'edizione 62 di Cortona Antiquaria. 18 gli espositori presenti provenienti da Italia e Spagna, tra le opere tele, tavole, sculture, arazzi, argenterie, tappeti e complementi d'arredo, tra cui spiccano diversi preziosi oggetti, fra cui un San Giovanni Battista di fine 400, oltre ad un olio su tela ottimamente conservato che reca un neceomo cinquecentesco ed ancora una natività con adorazione dei pastori della fine del 600 ed infine un sarocco in legno policromo del primo 500. Come ogni anno in programma anche una serie di iniziativa later ed una mostra che arricchiscono l'iniziativa in corso sino all'8 settembre e aereo pittura futurista il tema della collaterale della 62esima edizione di Cortona Antiquaria. Tra le iniziative collaterali l'annunciato spettacolo del primo settembre in piazza Signorelli Panariello contro Masini in cui il cabarettista e il musicista si sfidano a colpi di battute e brani musicali. Infine, come ogni anno, ci sarà la serata dedicata al premio Cortona Antiquaria, conferito ad una personalità legata alla città particolarmente degna di nota. A breve sarà svelato il nome del vincitore dell'edizione 2024.